Come ci sarà un incontro istituzionale? Noi abbiamo sempre garantito a tutti i governi la massima cooperazione istituzionale. Ovviamente riteniamo che sia utile fare un incontro che non sia una passerella ma che sia un incontro, come siamo abituati a fare, concreto, operativo e fattivo. Se questo è lo spirito istituzionale daremo il massimo contributo al Ministero dell'Interno. Grazie 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 Grazie